Vendita senza incanto in lotto unico di edificio di 5 livelli con annessi fabbricati bassi accessori, piazzali e giardini per un'area complessiva di 2.900 metri quadri, sito in Genova Cornigliano, via Guida Augusti 6 ed adibito a residenza per anziani, l'immobile è in buono stato manutentivo e dotato di ascensore. L'unità immobiliare si sviluppa su 5 livelli più un interrato per totali metri quadri 2.325 così distribuiti al piano terra, portineria, soggiorno, cappella, refettorio, cucina, aule, servizi e depositi per metri quadri 790, fabbricati bassi vari per un totale di metri quadri 190. Al piano primo aule e spogliatoi con servizi per metri quadri 415. Al piano primo ammezzato un ampio locale ricreazione, camere con o senza servizio privato per metri quadri 420. Al piano secondo camere con e senza servizi privati per metri quadri 380. Al piano secondo ammezzato locali per metri quadri 40. Al piano sottotetto otto vani per metri quadri 150. Al piano interrato scantinati e locali tecnici per metri quadri 130. Una delle sale ricreative. L'ampia sala da pranzo. La grande cucina. Un bagno. Una delle sale di soggiorno. Il moderno ascensore. La cappella. Un bagno per disabili. Parte del giardino. Veranda esterna. La centrale termica. Un locale ufficio. Una stanza singola. Una delle stanze a più letti. Un altro dei molti bagni. una parte di giardino. Una ulteriore stanza singola.